Cari amici roditori, benvenuti nel mondo di Geronimo Stilton. Giù le zampe, faccia di fontina! Mi presento, il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton. Quella mattina, una mattina come tutte le altre, uscii di casa per andare in ufficio quando una signora che, giuro, non conoscevo, mi tirò un'ombrellata. Io protestai. Ma cosa fa? Non capisco. Lei strillò infuriata. Che faccia tosta, giovanotto! Non ricorda di avermi pestato un callo lunedì mattina alla fermata dell'autobus? E non ha neanche chiesto scusa! Screanzato! Poi se ne andò sbuffando. Così impara. Io non sapevo cosa pensare. Incredibile! Mi avviai a prendere il metro. Davanti alla biglietteria incontrai un mio amico, Caseario Zampa. Lo conoscete? È il direttore dell'istituto Formaggi di Topazia. Sa tutto, ma proprio tutto, sui formaggi freschi e stagionati. È famoso per aver inventato il misura provole. Appena mi vide Caseario squitti, offeso. Vergognati, Geronimo! Da te non me l'aspettavo proprio! Io lo fissai sconcertato. Cosa, cosa, cosa? Scusa, ma proprio non capisco. Lui sbuffò. Non capisci? Eppure ieri sera sembravi capire benissimo al ristorante Linguzzo. Poi continuò indignato. Perché hai detto in pubblico, per di più, che io di formaggio non capisco niente? Perché hai sostenuto che non distingo una scaglia di grano da un bocconcino di mozzarella? Perché mi hai sfidato una gara di assaggio formaggio, eh? Credevo fossimo amici. Comunque per la gara sono pronto, sai. Quando vuoi. Io lo guardavo allibito. Squit! Ma cosa stai dicendo? Io non so neanche dove sia il ristorante Linguzzo. Lui si inviperì. Ah, mi prendi anche in giro? Mi dai del bugiardo? Io non sapevo cosa pensare. Incredibile! In quel momento arrivò il metro. E nella confusione io e Caseario ci perdemmo di vista. Entrai in redazione ancora sotto shock. Avevo appena chiuso la porta del mio ufficio quando squillò il telefono. Sollevai la cornetta e squittii. Pronto? Qui Stilton. Geronimo Stilton. Dottor Stilton. Esclamò dall'altra parte del telefono una voce nota. Era Marameo Sfacciotto, il giornalista più pettegolo di Topazia. Proprio lei cercavo, carissimo. Lo sa, vero, che siamo in diretta? Eh? Cosa, cosa, cosa? Balbettai. L'altro continuò ridacchiando. Burlone. Non dica che non sapeva dell'intervista. Ma si è chiamato lei venerdì per proporna. Per fare al nostro pubblico importanti rivelazioni sulla sua azienda, sulla sua vita privata, eccetera, eccetera. In diretta, naturalmente. Allora ci dica, ci dica, caro Stilton. Siamo curiosissimi. Io non saprei. Cioè, Squid, veramente non avrei, ecco, proprio niente. Da dire. Marameo insistette. Non sia timido, Berbone. Ci racconti tutto nei minimi scandalosi dettagli. Non sento più niente. Deve essere caduta la linea. Mentì riattaccando la cornetta. Io non sapevo cosa pensare. Incredibile! Squillò di nuovo il telefono. Sollevai la cornetta con un sospiro. Chissà chi era adesso. Pronto? Qui, Stilton. Geronimo Stilton. Ehi là! Sono io! Truffolo! Tartuffoli! Sto arrivando! Come vuole che glielo consegni. In un pacco regalo, così com'è da gustare al momento. Io balbettai. Cosa, cosa, cosa? Scusi, non capisco di che stia parlando. Lui replicò irritato. Davvero? Ieri è venuta nel mio negozio la casa del tartufo e mi ha ordinato tre quintali. Tre dico tre! Non avrà cambiato idea, eh? Io chiesi. Ma tre quintali di che, scusi? Lui si spaziantì. Che cos'ha? Dei vuoti di memoria? Eppure ha ordinato tre quintali di trufolon extra millesime, cuve imperiale, calité supreme, medaille d'or, formaggio aromatizzato al tartufo del 1948. Non so se mi spiego. Il massimo della raffinatezza. Se lo ricordo il prezzo, vero? Ottanta bigliettoni al grammo. Infatti di solito lo vendo a grammi col bilancino. Io mi senti mancare. Scusi, ma io non ho ordinato niente. Non so neanche dove sia il suo negozio. Lui continuò. Ah sì? Se lo ha dimenticato. Ha dimenticato anche che ieri le ho consegnato dieci. Dico dieci. Chili di formaggio in anticipo. Se lo ricorda questo, eh? Se lo ricorda? Come diceva mio nonno, truffaldone tartufoli. Quando c'è da pagare perdono tutti la memoria. Niente scherzi. Prepari l'assegno. Sto arrivando. Intanto entrò la mia contabile, Flanella Posapiano, che scosse la testa con aria comprensiva. Povero dottor Stilton. Io non sapevo cosa pensare. Incredibile. Uscì a fare due passi. Comprai il giornale della sera. Mentre lo sfogliavo, mi colpì una pubblicità a colore di articoli sanitari. Strabuzzai gli occhi. Ma quello ero io. Nella foto a colori, indicavo compiaciuto un gabinetto. L'essi preoccupato la pubblicità sul giornale. Il mio nome è Stilton. Geronimo Stilton. Sono un topo intellettuale, raffinato. Uno che se ne intende. Ebbene, nella mia casa, ho voluto un tocco di classe. I gabinetti Shaquon. Difidate delle imitazioni. Squid. Parola di Geronimo Stilton. Mi rivelo un segreto. Molte delle mie idee più brillanti mi sono venute proprio mentre... Alzai gli occhi. E vedi esterrefatto che la città era tappezzata di giganteschi manifesti a colori con la mia foto e la scritta Shaquon. Per il topo che se ne intende. Io non sapevo cosa pensare. Incredibile. Mi diressi verso casa, sempre più perplesso. Davanti alla mia porta c'era una folla di roditori che mi aspettava. Eccolo! A lui! Udì gridare. Avrei voluto fuggire, ma era troppo tardi. Un cronista mi piazzò un microfono proprio davanti al muso. E lei, Geronimo Stilton? Sì, sono io, Stilton, Geronimo Stilton. Risposi cauto. Sono fricca frittata di Top TV. Lei conferma che leggere libri è un'inutile perdita di tempo e che guardare la TV sia molto meglio? Lei conferma? Io lo interruppi. Squid! Ma che sciocchezze! Solo un roditore ignorante, illetterato, incompetente, disinformato, incolto, analfabeta può dire che la TV è meglio dei libri. Eppure lo ha detto proprio lei. Ecco qua. Strillò freak frittata sventolandomi sotto il muso un'intervista con foto in cui dicevo che leggere era un'inutile perdita di tempo. Molto meglio guardare la TV. Entrai in casa con le lacrime agli occhi giusto in tempo per ricevere una telefonata. mi informavano che ero stato radiato dal prestigioso albo degli editori per comportamento indegno di un editore rispettabile. Io non sapevo cosa pensare. Incredibile! Mi chiusi in casa demoralizzato. Ascoltai la segreteria telefonica e mi disperai ancora di più. Il primo messaggio era di un cantante di balera un certo cotica cotecchia. Complimenti socio! C'hai dato dentro a ballare lì sabatonotte al dancing gatto scatenato furbacchione! A proposito quando mi restituisci i quattro bigliettoni che ti ho prestato sabato ciao 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 alla prossima! Il secondo messaggio era del conte Topulfo de Granis un roditore snob con cui mi era capitato di giocare a golf. Stilton so che al circolo golf ha fatto mettere sul mio conto una cena con 57 amici trovo il suo comportamento alquanto scorretto riceverà una lettera dal mio avvocato le consiglio di non farsi più vedere al circolo golf. Poi un messaggio di un antiquario qui è l'antiquario van der Toppen complimenti per l'antico vaso portaformaggio che ha scelto nel nostro negozio lei ha proprio gusto quando viene a saldare il conto le abbiamo consegnato il vaso sulla fiducia perché conosciamo la sua casa editrice ma... infine trovai un messaggio di un'amica di mia sorella bubbo la micragna Geronimo ti ho visto ieri sera al cinema perché non mi hai salutato perché hai fatto finta di non vedermi non ti credevo così maleducato io non sapevo cosa pensare incredibile conoscete mia sorella Thea Stilton è l'inviato speciale del mio giornale l'eco del roditore le telefonai per chiederle un consiglio ciao sono io lei ridacchiò Gerry ti ho visto ieri pomeriggio eri fermo al semaforo su una moto sei ripartito facendo un'impennata non sapevo che guidassi la moto io sospirai non lo sapevo neanch'io lo scopro adesso Thea credo di avere bisogno di aiuto le raccontai tutto Thea riflette a lungo poi disse conosci il professor Rattirolius Smunz il famoso psicanalista andiamoci subito Rattirolius mi osservò impassibile mormorò con aria professionale dica pure dica pure ascoltò il mio racconto concluse un caso interessante un caso interessante io ero preoccupato che cosa ne pensa professore lui riunì le dita a guglia sulla panza e squitti severo un caso di sdottamento della personalità della personalità molto grave molto grave lei non ricorda che cosa ha fatto che cosa ha fatto che ha incontrato che ha incontrato è come se ci fossero due Geronimo Stilton due Geronimo Stilton ma posso guarire professore lui scosse la testa con aria solenne che può dire che può dire forse forse con anni di terapia con anni di terapia uscii dallo studio di ratirolius smunz con il morale a terra anche lui non ci capiva niente e se non capiva lui che era un esperto ahimè che cosa mi stava succedendo mia sorella tentava di consolarmi ma capivo che anche lei era preoccupata in quel momento un tipo cioè un topo che non avevo mai visto si avvicinò lei è Geronimo Stilton in persona mi fa un autografo è per la mia nipotina che stasera verrà con me allo spettacolo mi dica davvero stasera racconterà anche le barzellette squitta mi piacciono le barzellette soprattutto quelle sui gatti io ero stupito scusi quale spettacolo lui indicò un manifesto guardi guardi là mi pulì gli occhiali per vederci meglio e mi avvicinai al manifesto ero proprio io non sapevo cosa pensare incredibile tea mormorò fratellino andremo anche noi allo spettacolo voglio proprio vedere fu solo alle 20 e 40 che si accesero le luci del palcoscenico udì rullare i tamburi un presentatore strillò tutti voi conoscete l'editore più importante di Topazia Geronimo Stilton tutti applaudirono il presentatore continuò il dottor Stilton non è solo un insigno intellettuale ma anche un grande artista applausi ancora applausi il presentatore chiese silenzio ecco a voi il vero l'unico l'inimitabile Geronimo Stilton di nuovo applausi anche qualche fischio però ma come si permettevano le luci si spensero le luci si spensero poi un roditore balzò fuori dalle quinte e si inchinò al pubblico lo fissai esterefato ero io cioè no non ero io era lui guardai mia sorella e le vedi dipinto sul muso lo stesso stupore la udì mormorare siete identici come due sorci gemelli gemelli lui fece un cenno di saluto la folla reagì con entusiasmo esagerato ma che ci trovavano in quello lì il tipo cioè il topo che si faceva passare per me si levò il cappello alla fredda ster e iniziò a ballare il tip tap non sapevo cosa pensare incredibile intanto lui gorgheggiava sei dolce come la fontina sei tenera come una mozzarellina mi sciolgo come la fonduta pensando a te sei la cacciottina che fa per me che canzone sciocca chissà perché si illudeva che potesse piacere poi osservai la folla e dovetti ammettere che invece piaceva e come una signora vicino a me strillò in tono isterico come romantico che tipo cioè che topo questo stilton mi rivolsi a mia sorella per commentare la cosa ma notai stupito che anche lei cantava a fior di labbra la canzoncina e intanto batteva il tempo con la zampa lui terminò la sua esibizione con un inchino sventolando il cappello gli ammiratori anzi le ammiratrici gli lanciarono rose gialle profumate alla fontina lui le raccolse e le annusò una per una con aria languida ponendosele sul cuore la cosa strappò gridolini eccitati al pubblico femminile non sapevo cosa pensare incredibile il sipario di pesante velluto giallo si chiuse e lui scomparve con aria soddisfatta qualche minuto più tardi uscì vestito anzi svestito con un buffo connellino di banane e attaccò a cantare a squarciagola accompagnandosi con le maracas sai cosa ti dico ruota l'ombelico muovi la panza al ritmo di danza mi gusta bailar al ritmo tropical non sapevo cosa pensare incredibile ci esibì in passi di samba merenghe salsa rumba la folla continuava ad applaudire poi si lanciò in uno scatenato cia 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 strellando un motivetto che faceva così un due tre cia 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 provolo cia 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 mascarpo cia 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 me li mangio in un boccon cia 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 non sapevo cosa pensare incredibile si cambiò di nuovo entrò in scena con la pelliccia lucida di brillantina accennando alcuni passi di flamenco stringendo una rosa rossa fra i denti e lanciando sguardi focosi alle ammiratrici intonò e sono un romantico roditore non penso al formaggio penso all'amor il pubblico lo acclamò come se fosse un divo non sapevo cosa pensare incredibile si cambiò di nuovo e si ripresentò sul palcoscenico con un frac per cantare un brano lirico non sapevo cosa pensare incredibile poi spari di nuovo dietro le quinte usci cantando un rap io ero allibito eppure tutti applaudirono entusiasti ballavano sulle sedie lui concesse un bis e anche un tris non la finiva più insomma non sapevo cosa pensare incredibile poi tornò con un grosso pezzo di groviera con aria drammatica da grande attore teatrale lo annusò poi recitò ispirato rosichiare o non rosichiare questo è il problema io credevo che l'avrebbero fischiato invece giù applausi a non finire non sapevo cosa pensare incredibile infine tornò vestito da clown con il muso impiastriciato di cerone e un naso rosso a ciliegia raccontò barzellette erano vecchissime storielle sui gatti che io sapevo già eppure tutti ridevano come pazzi non sapevo cosa pensare incredibile ma ero proprio curioso di incontrarlo di persona quello sfacciato così con Thea mi appostai vicino ai camerini degli attori e quando lo vedi uscire lo affrontai indignato come ti permette di farti passare per me? lui fuggì via nel corridoio buio con uno squiiiit di sorpresa lo rincorsi e lo acchiappai per la coda ma lui riuscì lo stesso a sfuggirmi nel buio però gli cadde qualcosa era un portafogli nuovissimo firmato Louis Topon chissà se l'aveva comprato mettendolo in conto a me Thea Squitty vediamo chi è questo roditore che ti assomiglia tanto aprì il portafogli e ne sfilò una patente intestata a un certo Tortelius Strudel di professione attore ci sono anche delle lettere firmate da Sally Rasmussen io so balzai Sally Rasmussen è la mia nemica numero uno dirige la gazzetta del ratto il giornale che fa concorrenza al mio non sapevo cosa pensare incredibile spettabile ATTAT associazione teatrale topi attori di Topazio mi serve un attore che assomiglia a Geronimo Stilton il direttore dell'eco del roditore se è veramente somigliante non baderò a spese o quasi dico fatemi sapere ora adesso subito immediatamente dico Sally Rasmussen PS non ditelo a Stilton a Tortelius Strudel dico ha ricevuto una sua foto lei sembra davvero somigliare moltissimo a Geronimo Stilton dico non la invidio proprio pagherò qualsiasi cifra o quasi perché lei interpreti secondo le mie istruzioni la parte di quel babbeo di Stilton dico ne faccia sapere ora adesso subito immediatamente dico Sally Rasmussen tornai a casa preoccupato passai una notte agitata sognai che mi obbligavano a cantare e io so di essere stonato come una scamorza a causa degli incubi mi svegliai in ritardo alle 9 meno 20 ahimè non immaginavo che quel ritardo mi sarebbe stato fatale mi diressi verso l'ufficio bussai alla porta mi aprì mia sorella Thea appena mi vide sbarò gli occhi poi strillò infuriata ma che sfacciato come si permette non ci penso neanche a farla entrare qui c'è già il vero Geronimo Stilton io ero allibito cosa 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 lei mi sbatté la porta sul muro bussai di nuovo apri Thea sono io Thea riaprì la porta impostore se ne vada ma sono io Thea sono tuo fratello non mi riconosci lei mi guardò bene le colse negli occhi un attimo di esitazione ma squitti decisa so benissimo chi di voi è il vero Stilton attraverso la porta socchiusa vedi che nel mio ufficio seduto alla mia scrivania c'era lui cioè io cioè il falso Geronimo Stilton i miei collaboratori vedendomi iniziarono a mormorare indignati ecco quello è il sose del dottor Stilton il tipo c'è il topo che si fa passare per lui la mia segretaria topella scosse la testa squid non gli assomiglia per niente si vede benissimo che il vero Stilton l'originale è questo indicò il tipo cioè il topo seduto alla mia scrivania mia sorella mi sbattè di nuovo la porta sul muso ussa via e non farti più vedere tornai a casa ma quando tentai di aprire la porta mi accorsi che la chiave non girava qualcuno aveva cambiato la serratura per i baffi a torciglione del gatto mammone e ora che faccio? pensai nel panico più totale chiamai uno dopo l'altro tutti i miei amici più cari purtroppo Thea aveva già avvisato tutti che c'era in giro un tipo cioè un topo che si faceva passare per me quindi tutti mi sbatterono il telefono sul muso credendomi lui l'altro l'impostore insomma chiamai anche mio cugino Trappola ma mi rispose la sua segreteria telefonica squettete nome, cognome e indirizzo e vi richiamerò per ultimo tentai di chiamare il mio nipotino preferito Benjamin ma non me lo passarono che fare? mi appostai vicino a casa mia in attesa di vedere arrivare il falso Stilton finalmente verso le sette di sera vedi giungere un'auto gialla la mia auto dall'auto scese lui controllò nella cassetta la mia cassetta se c'era posta la mia posta trasse di tasca le chiavi per entrare in casa la mia casa poi si accostò alla porta la mia porta e canticchiando la apri io balzai fuori e strillai giù le zampe faccia di fontina giù le zampe dalla mia casa dal mio ufficio dalla mia famiglia dai miei amici troppo tardi ratto come un sorcio lui aveva già richiuso la porta rimasi con un palmo di muso non sapevo cosa pensare incredibile infreddolito depresso in preda ai più cupi pensieri vagabondai per le strade di topazia in attesa che giungesse l'alba finalmente il sole fece capolino all'orizzonte la città cominciò ad animarsi mi avvicinai all'edicola e vedi una notizia a caratteri cubitali su tutti i giornali del mattino edizione straordinaria l'eco del roditore è stato acquistato da Sally Rasmussen sbarrai gli occhi lessi questa notte l'editore Geronimo Stilton direttore dell'eco del roditore ha firmato un accordo segreto con Sally Rasmussen Stilton ha venduto il suo quotidiano l'eco del roditore alla gazzetta del ratto pare che il prezzo di vendita sia basso bassissimo praticamente più che venduto l'eco del roditore è stato regalato alla gazzetta questa decisione improvvisa ha colto tutti di sorpresa pare che Sally Rasmussen abbia già licenziato tutti i collaboratori di Stilton inclusa la sorella Thea inviato speciale dell'eco corsi all'eco del roditore ma quando fui davanti alla porta mi accorsi che fuori c'era già scritto gazzetta del ratto Sally non aveva perso tempo telefonai a mia sorella che era a casa quando dissi Thea sono io lei gridò infuriata chi sei dei due quello vero o quello falso? io sospirai Thea sono io sono tuo fratello sono Stilton Geronimo Stilton lei sbuffò ah si? allora ti metto alla prova di che colore era il topolino di peluche che ti regalò zia margarina quando compiste i cinque anni? io risposi ridacchiando è un trucco vero? zia margarina non mi regalò nessun topolino di peluche ma piuttosto un orrendo berrettone di lana gialla lavorato a uncinetto con delle orecchie di gatto che ho sempre odiato portare io e te solo io e te lo sappiamo benissimo Thea tirò un sospiro di sollievo sei tu sei proprio tu fratellino fratellino io chiesi posso venire da te? lui ha cambiato le chiavi di casa mia così ho passato la notte fuori andai da Thea appena entrai mia sorella mi abbracciò stretto con gli occhi lucidi di commozione poi mi accompagnò in bagno ti ho riempito la vasca di acqua calda ci ho messo dei sali da bagno profumati al parmigiano mi immersi nella vasca rossa di Thea squit che delizia adoro il profumo di parmigiano dopo un bagno così un topo torna subito di buon umore poi Thea mi cucinò un delizioso piattino uova strapazzate con mozzarella fusa e un frullato di pere e gorgonzola da leccarsi i baffi mi dispiace proprio Geronimo di averti sbattuto la porta sul muso ma quel tipo cioè quel topo ieri ci aveva proprio convinto sai pareva proprio te io la consolai non importa sorellina non è colpa tua in quel momento arrivò il mio nipotino benjamin mi corse incontro con le lacrime agli occhi zio zio Geronimo zia Thea mi ha detto che c'era un topo cattivo che voleva prendere il tuo posto mi ha detto che ti assomiglia tanto ma io non potrei mai confonderti con nessun altro zietto ti voglio bene sai io lo coccolai certo nipotino mio topino del mio cuore bocconcino di grana anch'io ti voglio bene in quel momento trillò il campanello della porta era mio cugino trappola lui tagliò corto cosa sono tutte queste smancerie ti voglio bene qua ti voglio bene là roba da femminucce poi assaggiò un cioccolatino al taleggio squittendo comunque sono contento di rivederti cuginotto ah io però non mi sarei lasciato ingannare ci avrei riconosciuto subito dalla puzza in un altro momento mi sarei arrabbiato ma ero così contento di avere ritrovato la mia famiglia che la sai perdere ho bisogno del vostro aiuto per riconquistare l'eco del roditore poi ci vuole una tattica una strategia trappola assenti solenne sì giusto ci vuole una tettica una tratteggia Thea lo corresse infastidita trappola si dice tattica strategia sì vabbè quella roba lì insomma allora che si fa? aspettiamo il tipo? cioè il topo davanti a casa e lo conciamo per le feste? Thea lo interruppe niente violenza trappola niente forza brutta cosa? forza brutta? poi aggiunse comunque capisco benissimo quando parlate voi intellettuali sai? ho capito che bisogna lavorare di cervello usare le meringhe io sospirai meningi non meringhe io riflettei ad alta voce che infingardo quell'impostore e a quanto pare siamo identici scossi la testa demoralizzato mi ha praticamente clonato udì intanto trappola a borbottare sottovoce se lo prendo quell'infingatto quell'impastatore glieli do io identici è guai a chi ti ha incollato benjamin strillo ho avuto un'idea usiamo lo stesso metodo di Sally troviamo qualcuno che le assomigli notai che Thea guardava fisso trappola gli girò intorno parve soppesarlo e mormorò proprio la stessa taglia una cinquanta abbondante direi la pelliccia si può decolorare smalto viola sulle unghie un tocco di rossetto ciglia finte con il make-up si possono fare miracoli trappola strillo make-up? che cos'è? e perché mi fissi così? ho un brufolo sul muso? no anzi vai benissimo sei perfetto perfetto? per che cosa? borbottò lui sospettoso Thea lo spinse fuori dalla porta muoviamoci non c'è tempo da perdere trascinammo trappola da charmant come un croissant l'istituto di bellezza di Thea diretto da monsieur le rat oh mademoiselle c'è il ton qual bon vento la porta come la trovo bene un beijo è assolutamente charmante Thea si lisciò la pelliccia allusingata dice davvero monsieur le rat? lui mormorò in tono confidenziale mi dico mademoiselle che cosa posso fare per lei? Thea sussurrò qualcosa all'orecchio di monsieur le rat indicando trappola cinque minuti dopo nonostante le sue proteste mio cugino venne trascinato a forza in un camerino monsieur le rat strillò ai suoi collaboratori tutti qui c'è un'emergence massaggio rassodente al viso di mezz'ora poi una maschera purificante al latte una maschera idratante al mascarpone e infine una maschera tonificante al sierre di mozzarella voilà esclamò soddisfatto dopo due ore fece sedere trappola su una poltroncina imbottita di soffice belluto rosa monsieur le rat squitti oh ma quanto è doppia punta e che pelliccia sfibrante senta tochi qui e quanta farfara impressionante gridava a pieni polmoni indignato ma che prodotti usa lei deve curare di più la sua pelliccia sa non deve trascurarsi così trappola non disse nulla ma lo vedi digrignare i denti monsieur le rat squitti ecco ora è pronto per il truc depigliamo le sopraccigli con una pincetta così trappola tentò di opporsi squitti che male giù le zampe le sopracciglia no monsieur le rat lo sgridò stia fermo mi lasci lavorare non da fromage iniziò a truccarlo con cura per maggiore accuratezza intanto sbirciava una serie di foto di selli vediamo matita azura sugli occhi per le ciglia finte un tocco di rossetto rose de reblochon lo stesso colore che usa la signora rasma ussene un tocco di fondotinto un velo di farlo infine una spolveratina di cipra sulla coda quindi gli laccò le unghie con lo smalto viola infine monsieur le rat gli spruzzò dietro le orecchie qualche goccia del profumo di selli poi monsieur le rat convocò un oculista e si procurò delle lenti a contatto azzurro ghiaccio esattamente la stessa sfumatura degli occhi di selli telefonò alla boutique dove si serviva selli e ordinò gli stessi abiti che indossa lei infine ci chiamò venite a vedere un vero biso un vero gioiellino voilà squitti orgoglioso io non credevo ai miei occhi quello non era più mio cugino trappola era selli trappola si alzò dalla poltroncina poi si osservò allo specchio borbottando davvero le assomiglio monsieur le rat squitti come lei anzi meglio di lei molto più affascinante più charmante trappola lo guardò storto uscimo dall'istituto di bellezza proprio fuori dalla porta incontramo una signora dall'aria snob che trillò sali carissime da quanto tempo noi ci vediamo anche tu in giro a fare shopping trappola aprì la bocca per rispondere mattea fu l'esta a rispondere al posto suo la signora rasmussen senza voce ha un tremendo mal di gola poi cacciamo trappola cioè sally cioè no trappola su un taxi e lo portammo a casa quella sera accendemmo la televisione per ascoltare le ultime notizie sullo schermo comparve il muso di sally intervistata da un giornalista zelindo zelo il giornalista le chiese che effetto le fa signora rasmussen essere l'editore più importante di tutta l'isola dei topi lei sorrise con un sorriso felino e tuonò col suo vocione un bellissimo effetto dico zelindo continuò signora rasmussen perché stilton ha venduto anzi svenduto il suo giornale a un prezzo così basso lei rispose perfida perché io sono furba molto furba e so fare bene i miei affari dico zelindo zelo insistette e che cosa farà stilton ora secondo lei lei fissò la telecamera e urlò a pieni polmoni niente dico stilton non può fare più niente l'eco del roditore ora è mio solo mio dico zelindo chiese incautamente qual è il motivo per cui tiene tanto all'eco del roditore forse perché a un livello culturale più alto della gazzetta sally digrignò i denti con i baffi che frullavano vorticosamente per la rabbia ringhiò a zelindo come ti permetti pivello di insinuare che l'eco è meglio della gazzetta lo offerrò per la camicia e lo strapazzò selvaggiamente e cosa hai nella testa al posto del cervello croccantini per gatti sotto razza di sorcio sotto prodotto di pantegana di fogna ti strappo i baffi ti annodo la coda ti mordo le orecchie zelindo zelo pallido come una mozzarella squitti aiuto per ora è tutto da top tv spensi la televisione dobbiamo riconquistare l'eco del roditore domani o mai più trappola passò la notte a studiare delle videoregistrazioni di sally per copiare il suo modo di camminare per ore e ore si esercitò ad imitare la sua voce il giorno dopo alle nove del mattino andammo alla gazzetta del ratto tea parcheggiò l'auto vicino all'ingresso del giornale benjamin telefonò a sally pronto la signora rasmussen sally rasmussen pronto rispose lei chi parla dico dico sono un suo giovane ammiratore la informo che abbiamo fondato un fan club in suo onore abbiamo organizzato una festa per lei ascolti quanti ammiratori ha io tea e trappola strillammo in coro benjamin continuò aspettiamo solo lei per iniziare i festeggiamenti signora rasmussen allora arriva non vorrà deluderci siamo in corso crostolo 35 sally allora rispose compiaciuta arrivo subito dico 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 pochi minuti dopo la vedemmo uscire di corsa dalla gazzetta del ratto aveva proprio fretta trappola mormorò io vado io tea e benjamin sussurrammo siamo tutti con te in bocca al gatto trappola crape il gatto rispose lui strizzandoci l'occhio quindi si diresse verso l'ingresso sulle scale incontrò zerbino zero il suo caporedattore con un pacco di manoscritti sotto il braccio zero mormorò buongiorno signora rasmussen ecco i manoscritti che ha richiesto vuole esaminarli oggi pomeriggio vi di trappola esitare per un attimo chissà se ce l'avrebbe fatta tremai poi lo udì strillare non oggi pomeriggio ora adesso immediatamente dico il poveretto non si stupì probabilmente era abituato a simili sfuriate e sussurrò con un inchino perfetto signora rasmussen come desidera lei e corse via quatto come un ratto trappola si girò e fece un gesto soddisfatto come per dire visto noi tre tirammo un sospiro di sollievo poi trappola cioè se lì cioè no trappola entrò con passo deciso noi lo seguimmo trappola si guardò attorno indeciso non aveva idea di dove si trovasse l'ufficio di Selly poi notò una porta dorata su cui brillava una targa Selly Ross Mousen trappola vi si diresse a passo di carica entrò e noi dietro di lui l'ufficio di Selly era un'immensa stanza bianco ghiaccio veniva freddo solo a guardarla la sua scrivania era un enorme tavolo triangolare di cristallo poggiato su tre basi d'acciaio a forma di artiglio di gatto trappola si sedette su una sedia rivestita in pelliccia sintetica di gatto premette il pulsante dell'interfono e squittì alla segretaria mi porti il contratto di Geronimo Stilton per cortesia la segretaria dall'altra parte rimase qualche istante in silenzio io tremai perché gliel'aveva chiesto così gentilmente Selly non diceva mai per cortesia la segretaria infatti chiese perplessa signora Rasmussen ma è proprio lei signora Rasmussen trappola capì di avere fatto un errore e urlò con quanto fiato aveva il contratto il contratto di Stilton allora le orecchie fondarate di formaggio il contratto ora adesso subito immediatamente dico 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 la segretaria balbettò allora con un sospiro di sollievo è proprio lei signora Rasmussen arrivo 30 secondi dopo una cartella giaceva sul tavolo di cristallo io la afferrai e tirai un sospiro di sollievo era il contratto di vendita dell'eco del roditore trappola sempre imitando la voce di Selly afferrò il telefono e avvisò il portiere all'ingresso Portolo Sportelli si stori bene le orecchie e prenda nota dico parola per parola sta per presentarsi dico all'ingresso una tipa che tenta di farsi passare per me dico lui balbettò credo che stia arrivando proprio adesso eccole qui le assomiglia proprio ma proprio tanto bene urlò trappola soddisfatto le dica che sono io l'unica la sola l'autentica Sally Rasmussen sono qui nel suo cioè nel mio ufficio e non voglio essere disturbata dico udimmo delle grida giù all'ingresso rappola spalancò la finestra e guardò fuori Sally sta tirando delle ombrellate sulla testa del portiere adesso gli morsica la coda ora invece gli sta strappando i baffi uno per uno è proprio una furia allora mio cugino si sporse dal balcone strellando usa via faccia di fontina gira a largo stiamo per sistemarti come meriti dico per prima cosa preparammo un nuovo contratto in cui la gazzetta del ratto restituiva l'eco del roditore a geronimo stilton poi trappola cioè Sally cioè trappola convocò i giornalisti della top tv e annunciò solenemente in diretta quanto segue punto primo l'eco del roditore ritorna a geronimo stilton punto secondo la gazzetta del ratto istituisce in onore di geronimo stilton un premio speciale per nuovi talenti il premio stilton i manoscritti saranno esaminati personalmente da geronimo stilton punto terzo la gazzetta del ratto si impegna a triplicare lo stipendio a tutti i dipendenti e a concedere loro uno stralussuoso viaggio premio in prima classe a santo pez quando i giornalisti se ne andarono trappola strellò alla sua segretaria telefoni al più costoso servizio di catering della città voglio un bacchetto super lusso per tutti i roditori che lavorano alla gazzetta ora adesso subito immediatamente dico la segretaria mormorò ma costerà una cifra spaventosa signora Rasmussen lei dice sempre che qui si deve risparmiare trappola squitti leccandosi i baffi voglio i formaggi più pregiati e raffinati tanto pago se cioè pago io ora adesso subito immediatamente dico certo signora Rasmussen subito signora Rasmussen e come desidera lei signora Rasmussen cinque minuti dopo nel cortile della gazzetta si apparecchiava un enorme tavolo mentre alle nostre narici saliva un delizioso profumo di formaggio la festa era iniziata da poco quando udì un rumore di cingoli stava arrivando un carro armato guidato personalmente da lei da Sally pareva decisa a riconquistare il suo ufficio a qualunque costo noi ci nascondemmo Sally uscì dal cingolato e i giornalisti si affollarono intorno a lei signora Rasmussen perché ha restituito l'equa Stilton Sally impallidì e strillò restituito dico altri le facevano i complimenti signora Rasmussen che generosità comitrete bene i suoi collaboratori lei tuonò generosità dico i giornalisti a bocca piena squittivano grazie 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 lei inviperita sbottò grazie dico loro insistevano sì grazie dell'aumento della vacanza del banchetto Sally urlò aumento vacanza banchetto dico dall'apertura del cingolato spuntò una testa un paio di orecchie e dei baffi che mi risultavano familiari ero io cioè era tortellius cioè era il falso geronimo stilton lei lo ricacciò sotto con una zampata tortellius è tutta colpa tua dico lo sapevo dico che non gli assomigli per niente a geronimo stilton dico 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 volete sapere come andò a finire Sally rientrò in possesso del suo giornale ma dovete tener fede a tutti gli impegni che trappola aveva sottoscritto il premio stilton sponsorizzato dalla gazzetta del ratto ebbe tanto successo che ricevevo manoscritti in continuazione quanti giovani autori e tutti bravi per giunta venivano a trovarmi portando i loro libri un giorno mia sorella entrò nel mio ufficio con un altro paccone di manoscritti questi sono per te e ricorda alle 18 hai la conferenza su il formaggio e il senso della vita alle 19.30 monta il congresso sui gatti nell'immaginario topico alle 21.15 la presentazione alla stampa del premio stilton domani mattina alle 8 devi andare alla scuola elementare Alessandro Toponi per tenere una conferenza su come si diventa editore io sospirai Thea continuò a proposito te l'ho detto che ha telefonato strudel torterio strudel il falso stilton insomma ah sì chiesi distrattamente squit e che ha detto tortelius Thea squitti ero veramente dispiaciuto Sally gli aveva raccontato una bugia che voi due eravate amici d'infanzia e che lei voleva solo farti uno scherzo innocente Thea continuò allora sei pronto guarda che ti conviene sbrigarti Topella la mia segretaria avvisò nell'interfono dottor stilton l'aspetta fuori il taxi trillò il telefono dottor stilton lo aspettiamo domani sera al circolo della stampa per la conferenza e non si deluda ahimè ero diventato tanto famoso a topazia che tutti mi volevano intervistare tutti mi invitavano alle conferenze alle presentazioni ai ricevimenti alle feste era un bel problema non avrei potuto essere dappertutto neanche volendo un solo geronimo stilton non bastava in quel momento intravidi la mia immagine riflessa nella finestra e se mi fossi fatto aiutare da lui dall'altro geronimo stilton squeed sembrava proprio una buona idea ma questa è un'altra storia cari amici eroditori a risentirci al prossimo libro un altro libro coi baffi parola di stilton di geronimo stilton